Allora, Professor Rapini, Eddie Lang, si potrebbe dire che ha preso il volo questa sera? Beh, questa sera è un appuntamento importante per noi dall'associazione che colonna un po' i sacrifici. Avete fatto comunque delle manifestazioni anche durante il periodo invernale? Sì, durante il periodo invernale abbiamo fatto quattro manifestazioni, adesso le manifestazioni estive sono tre manifestazioni, non parliamo di festival, sono tre serate jazzistiche. La prima serata stasera vede la presenza di due musicisti molto bravi, Spinozzi, bravissima la tromba, insomma speriamo che il pubblico... Ma è per il programma futuro? Avete qualche altra previsione? Il programma futuro abbiamo una previsione invernale, stiamo già cercando di muoverci con artisti, diciamo, di un certo valore anche. Il genere è sempre quello, insomma. Il genere per noi è sempre quello. Il grande è di Lenghi. No, noi siamo amanti di quel tipo di jazz, di jazz classico, però insomma non è che poi siamo fedeli all'ortodossia, diciamo. Grazie, grazie tante. Grazie a lei, avvocato.